Bella a tutti ragazzi con Orgasmic e sono qui con un nuovo episodio delle Potential Squad di 2015-2016 di FIFA 16 quindi Oggi parliamo del Milan come promesso visto che è stata la squadra praticamente più richiesta da voi nei commenti E quindi continuate a scrivermi nei commenti innanzitutto cosa ne pensate della squadra, quali cambiamenti fareste sia dei giocatori che delle statistiche eccetera E consigliatemi qualche squadra da usare nei prossimi episodi e soprattutto quella nel prossimo episodio Io pensavo o alla Juventus o alla Roma ma comunque fatemi sapere voi se volete anche una squadra estera Comunque andiamo subito con la squadra di oggi cioè il Milan partendo ovviamente dal portiere Diego Lopez Che l'anno scorso nonostante abbia subito diversi gol per via della squadra in sé del Milan Diego Lopez si è dimostrato un ottimo portiere e si merita per me un upgrade a 84 Comunque ha ricevuto anche una versione IF quest'anno se non erro proprio 84 E secondo me più o meno le sue statistiche saranno così Diego Lopez che ha dimostrato appunto di essere un ottimo portiere e si merita questo upgrade secondo me Poi andiamo con la difesa con qualche cambiamento Troviamo subito Abate che da quello che so dovrebbe essere upgradato a oro non chiedetemi perché Però da quello che so sarà così comunque sia sarà un'ottima carta per Ultimate Team Con delle statistiche molto belle e interessanti un po' ricorda forse quello di FIFA 14 se non erro E comunque Abate comunque aveva l'anno scorso aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi Fornendo tipo 5-6 assets qualcosa del genere nelle prime partite Poi però è andato calando come tutta la squadra del resto poi ha avuto qualche infortunio e appunto è calato notevolmente Però comunque sia se teniamo conto dell'inizio della stagione dell'anno scorso ci potrebbe stare anche un upgrade a oro Non ho messo De Sciglio in questa formazione perché o lui o Abate giocheranno Poi De Sciglio ovviamente può giocare anche a sinistra ma ho messo Antonelli a sinistra Andiamo con i due centrali Il primo è Rodrigo Eli che ho voluto mettere non so se sarà lui il titolare ma io lo spero Perché Rodrigo Eli ha fatto un precampionato veramente strepitoso Ha dimostrato di essere un ottimo difensore È arrivato al Milan praticamente come dire con la testa bassa Ha lavorato e ha dimostrato nel precampionato di essere un ottimo difensore Quando era nell'Avellino ha fatto un'ottima stagione comunque l'anno scorso in Serie B Diventando uno dei migliori centrali del campionato di Serie B È arrivato al Milan che non tutti conoscevano Io personalmente non pensavo fosse così bravo Quindi sono contento di come abbia giocato queste prime partite Spero che Mialovic lo possa riproporre negli undici iniziali Perché se lo merita davvero un ragazzo che ci può garantire un bel futuro in difesa Insieme al suo compagno di reparto Romagnoli Che anche lui è stato acquistato per un cifra veramente folle Ma ormai le cifre sono veramente altissime di questo mercato E quindi bisogna un po' adattarsi Comunque con Romagnoli ti garantisci un ottimo difensore per i prossimi anni E quindi potrebbe essere un investimento intelligente Romagnoli secondo me potrebbe diventare oro non raro Comunque sia ricevere un upgrade necessario Perché comunque un ottimo difensore Ha fatto una bellissima stagione l'anno scorso con la Samp E quindi più o meno queste potrebbero essere le sue statistiche Fatemi sapere cosa ne pensate e cosa modifichereste di questo giocatore Concludiamo la difesa con Antonelli che non ho voluto upgradeare a oro Perché a me non fa impazzire della verità come terzino Comunque se dovesse essere così o circa sarebbe davvero forte in Ultimate Team Perché ha delle statistiche tra velocità passaggio, difesa e fisico Veramente fighe, interessanti, dà paura Anche se comunque io penso che il problema principale dei terzini del Milan Sia il fatto che non spingano E è uno dei problemi principali del Milan Che i terzini non spingono Una volta Abate spingeva quando c'era Ibra Per dire, per farvi un esempio Adesso non spinge più E questo è veramente una cosa brutta Perché i terzini devono spingere Poi, centrocampo Ho voluto mettere Witzel Anche se sarà difficile un suo arrivo Ma fino alla fine del mercato c'è una possibilità E quindi io l'ho voluto inserire Non è ovviamente il giocatore che ci risolve tutti i problemi a centrocampo Witzel Ma è comunque un ottimo rinforzo Che preferirei a Soriano Poi magari Soriano farà meglio di Witzel Se arriverà lui, non lo so Comunque Witzel l'ho upgradeato di uno Perché comunque ho fatto un'ottima stagione l'anno scorso con lo Zenit Io qualche partita l'ho vista in streaming Devo dire che è un buon giocatore Non è il giocatore più veloce del mondo Come potete vedere anche da questa carta Ma è comunque meglio di Montolivo E questo siamo d'accordo tutti Poi andiamo con Nigel De Jong Il nostro mastino Che ho voluto mettere Ho voluto upgradeare di uno se non sbaglio Perché comunque è sempre uno dei migliori nella nostra formazione Sempre un giocatore che dà l'anima E anche qualche calcio in campo Però è davvero un ottimo mediano Forse uno dei migliori in Serie A Quindi ho voluto upgradeare Anche le statistiche ovviamente Poi completiamo il centrocampo con Bertolacci Che anch'esso è stato upgradeato Perché l'anno scorso comunque a Genova Ha fatto col Genova Un'ottima stagione Con tanti gol e tanti assist Quindi ci sta un suo upgrade Comunque è una buona carta Una carta non rara Abbastanza interessante Per una Serie A non rara E completiamo con Honda Che anche lui Ho voluto mettere titolare Perché lui ogni stagione La comincia bene L'anno scorso Aveva cominciato bene Quest'anno Sembra averla cominciata abbastanza bene L'ho downgradato di uno Se non sbaglio a Honda Perché comunque L'anno scorso Non è che era lui il problema Ma non ha giocato Una grandissima stagione Come del resto Tutta la squadra Le statistiche sono state Un po' diminuite Ma comunque Sì ha una carta Non male Non rara Comunque Poi andiamo all'attacco E ovviamente Qui ci sono i giocatori Più interessanti Cioè Luiz Adriano Il primo di questi Che Ho voluto upgradeare A 78 Raro Perché se lo merita L'anno scorso Ha dato un'ottima stagione Con lo Shakhtar Sia in campionato Che in Champions League Facendo un sacco di gol E quindi ci sta Una versione upgrade Giocatore che secondo me Bisognerà tenere d'occhio Perché potrebbe essere Molto interessante Questo giocatore Potrebbe essere davvero Una carta Buona per la Serie A Ma anche per il Milan In real life Perché potrebbe rivelarsi Davvero un grande acquisto Tra l'altro Arrivato a zero E infine Con Bacca La nostra diciamo Punta di diamante Con delle statistiche Molto buone Un upgrade Meritato secondo me Perché comunque Ha vinto per due volte di fila L'Europa League Ha fatto tanti gol L'anno scorso in stagione Quindi Secondo me Questo giocatore Si merita una carta così Anche È una carta molto bella Sicuramente da provare L'anno prossimo Nel caso uscisse così Come vedete Non ho messo Quel giocatore Il cui nome comincia Per la Z Perché È difficile Molto difficile Però Fino al 31 Io ci credo Come spero anche Gli altri Gli altri Milanisti Che seguiranno Questo video Comunque Se Non dovesse arrivare Il giocatore Che comincia con la Z È comunque Una squadra discreta Una squadra che può lottare Per il terzo posto Non sarà facile Perché comunque Le pretendenti sono tante Ma si vedrà Comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre Vi invito a lasciare un bel like 300 mi piace Uscirà un nuovo video Con una nuova squadra In cui vi invito A scrivermi nei commenti Quale volete vedere Nel prossimo video Ripeto O la Juve O la Roma O una squadra estera Tra quelle che preferirei trattare Come sempre Vi invito a iscrivervi Al mio canale Pagina Facebook Twitter Instagram Tutti i link Come sempre Li trovate in descrizione Noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga